Mi sono sempre chiesto come mai le riviste di alta fedeltà più autorevoli non fanno misure sulle soundbar. L'ho scoperto mio malgrado durante vari mesi di sperimentazione insieme a Giampiero Matarazzo utilizzando il nostro classico sistema di misura, ovvero quello in regime anecoico simulato. Il regime anecoico simulato permette di acquisire con il microfono i suoni che arrivano dal diffusore prima che arrivano le riflessioni dell'ambiente. All'interno delle soundbar c'è una massiccia elaborazione del segnale digitale che permette gli effetti di circondamento sonoro e gli effetti surround ma che però rende praticamente impossibile la misurazione con questi sistemi tradizionali. Per misurare le soundbar siamo quindi tornati alle origini delle misure elettroacustiche e quindi alla camera anecoica, dal greco senza eco. La camera anecoica è un ambiente grande di solito con pareti trattate in modo da assorbire il suono incidente ed impedire quindi le riflessioni delle pareti. Ho chiesto quindi un aiuto ad un amico, ad Andrea Farnetani che è responsabile tra le altre cose del progetto della strepitosa sala ellipse all'interno del punto vendita video cell di Trezzano sul Naviglio. La sala quella con l'acustica a geometria variabile di cui vi abbiamo già parlato molte volte. Andrea Farnetani è uno dei soci di Materia Acustica SRL che è una società spin-off dell'Università degli Studi di Ferrara. Qui siamo all'interno della camera anecoica dell'Università di Ferrara e Materia Acustica in qualità di spin-off ha un contratto con il Dipartimento di Ingegneria e può utilizzare la camera per quindi fare servizio ai propri clienti. Nulla vieta però che un privato o un'azienda che possiedono già una propria strumentazione abbiano il know-how necessario per eseguire le misure che si rivolgano direttamente al Dipartimento di Ingegneria per affittare la camera. Andrea ci ha ospitato all'interno del polo tecnologico dell'Università di Ferrara all'interno della camera anecoica probabilmente più grande d'Italia, almeno di quelle ad accesso pubblico. Si tratta di una scatola in cemento armato disaccoppiata sia dal terreno che dagli edifici adiacenti per ridurre il rumore di fondo ai minimi possibili. Nella camera le pareti sono coperte completamente da poliedri a cinque facce in fibra di poliestere ad alta densità che assorbono tutto il suono incidente o quasi. Di norma la camera è in configurazione semi-anecoica, ovvero il pavimento è completamente spoglio ed ha circa 10 metri di lato, mentre l'altezza tra il pavimento e i vertici dei poliedri al soffitto è di circa 8,3 metri e quindi il volume è di circa 800 metri cubi. Almeno il 99% del suono che incide viene assorbito, in questo caso essendo dei cunei profondi circa 170 cm, fino alla frequenza di 40 Hz. Quindi vuol dire che tutto il suono incidente a frequenze superiori a 40 Hz viene completamente assorbito. Questi 40 Hz quindi si chiamano frequenza di taglio. Da questa frequenza in avanti è come se misurassimo effettivamente in un campo libero, come all'aperto, ma senza i problemi legati alle misure all'aperto, quali il rumore di fondo, la presenza di vento. Durante le nostre misure invece la camera era in configurazione anecoica completa. Al di sotto del pavimento flottante ci sono infatti gli stessi poliedri delle altre pareti. Il volume in questo caso si riduce a circa 600 metri cubi e l'altezza, dal pavimento ai vertici dei cuspidi al soffitto è di circa 6 metri e mezzo. La soundbar che abbiamo scelto è stata la più difficile da misurare con i sistemi tradizionali, ma anche la più interessante dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Parliamo di 399 euro di listino e circa 350 euro di street price per una barra Dolby Atmos con subwoofer wireless che possono rizzare anche ambienti di generose dimensioni. La soundbar ha due ingressi HDMI, un ingresso ottico, un ingresso analogico su mini jack, anche il bluetooth e il telecomando. E' la TCL Ride Dance TS9030, vincitrice di un easy award come Best Buy Soundbar 2020-2021 che abbiamo anche insegnito nel nostro Editor's Choice. La TCL Ride Dance è composta da tre sistemi di altoparlanti, uno centrale a due vie e gli altri due con trasduttore a gamma intera orientati verso le due grandi lenti acustiche che dirigono i fasci sonori verso i lati. In questo caso per una riproduzione avvolgente è fondamentale che sulle pareti laterali del vostro ambiente ci siano superfici uniformi e riflettenti. Più incerto invece è il risultato se ci sono delle tende, librerie o altri elementi che assorbono le onde sonore. Il subwoofer è sorprendente sia per potenza che per estensione in basso. Il collegamento wireless poi non pone limiti alle possibilità di posizionamento. Per la verità il sub è un po' troppo generoso. In condizioni normali di posizionamento, quindi di solito al lato del mobile TV e in basso, per terra, il rischio di caricare ulteriormente la gamma bassa è garantito. Il problema è che le impostazioni del menu della soundbar sono fin troppo semplici e manca purtroppo il controllo di volume separato per il subwoofer e per la soundbar. Per riportare nei ranghi il subwoofer io consiglio di inserire all'interno del condotto di accordo una spugna molto densa in modo da trasformare il sub da reflex in cassa chiusa. In questo caso le basse sono decisamente più smorzate e ragionevoli. In camera anecoica abbiamo rilevato sia la risposta in frequenza delle varie modalità sia quella polare sul piano orizzontale. Questo è stato possibile grazie alla base rotante Outline integrata con il sistema di misura Clio che ci ha messo a disposizione Andrea Farnetani. Dalle misure e anche dagli ascolti la modalità predefinita più indicata per una riproduzione sonora equilibrata è quella denominata TV, ovvero quella più regolare con la risposta in frequenza meno accidentata. Sempre grazie alle misure abbiamo visto che l'attivazione degli effetti di virtualizzazione verticale, quindi Dolby Atmos, purtroppo si pagano a caro prezzo, ovvero con un leggero peggioramento della qualità timbrica che diventa un po' troppo in scatolata e con le voci che sono decisamente poco realistiche. Meglio secondo me il classico 5.1 che può essere ascoltato anche a livelli sonori decisamente elevati. Il test completo con misure, foto ed altre informazioni è su AV Magazine e il link lo trovate nella descrizione. Grazie a tutti.